Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti e siamo nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare a pianoforte. La canzone di oggi è... A chi mi dice di blu. Dopo la sigla. Sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Mi minore, quindi dove ci sono i due tasti neri qui c'è il Do a sinistra, Re, Mi, Mi, Sol, Si, forma il Mi minore, poi ci sarà il Re maggiore, quindi se questo è il Mi accanto c'è il Re, Fa diesis, La, Re maggiore, poi avremo il Do maggiore, che conosciamo bene, Do, Mi, Sol, e poi il Sol maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re, Sol maggiore, e comincia così. Sorriderai e ti rivedo come sei Se ti incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi a Dio e mentirei Se ti dicessi ora vai, oramai, oramai Oh, chi mi dice che tornerai non credo oramai Oh, chi ti dice che sto male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui Come avete visto, sia la strofa che il ritornello ha sempre questi quattro accordi. Poi la canzone va avanti ancora così strofa ritornello e arriva ad un punto dove ci sono pressoché gli stessi accordi con l'aggiunta del La minore Quindi se questo è Do, Si, La, La, Do, Mi, forma il La minore E la parte è questa Sorriderai, nulla ha più senso ora no E girerò le città Ma non ti scorderò Eccetera eccetera Poi la canzone si ripete sempre con gli accordi come visti prima Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoporte Io ringrazio Maria Grazie appena Per averci dato una mano E vi lascio in descrizione il testo con gli accordi Quindi un link dove poterlo trovare Poi altri due link di puntate dedicate proprio agli accordi da imparare al pianoporte E la deteggiatura per entrambe le mani Ciao E alla prossima Puntata 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 Grazie a tutti